E' stato accoltellato ed ora in gravissime condizioni un ragazzo adolescente di origine straniera. Il giovanissimo è stato accompagnato la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella a Cerignola, intorno alle 2 da alcuni ragazzi stranieri arrivati a bordo di un furgoncino. Immediatamente soccorso, i medici hanno riscontrato feriti al torace, alla spalla e anche al collo. Dopo aver prestato le prime cure e vista però la gravità delle ferite, è stato trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. I colpi potrebbero essere stati inferti con un coltello ma anche con una bottiglia di vetro rotta. Adesso è ricoverato, come detto, nel riparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, alertata anche la polizia chiamata a far luce su quanto accaduto.